Questo ha parlato Buffon a Radio Montecarlo, anche del giocatore della domenica per quanto riguarda la Juve, ossia Andrea Pirlo. Quando abbiamo comprato Pirlo, quando Andrea mi ha detto che sarebbe venuto la Juve, ho detto, cioè, meno male. Ho detto sinceramente, a prima cosa che ho pensato ho detto meno male, ecco, perché credo che un giocatore del suo livello, del suo valore, in più, gratis, credo che sia stato l'affare del secolo, ecco, per noi. E ieri, quando l'ho visto giocare, ho detto, Dio c'è. I tre giorni perfetti non potevano venire meglio, sia la festa di giovedì che la partita di ieri, veramente hanno creato, penso, nell'ambiente Juve, in tutti i tifosi, anche noi, insomma, giocatori delle grandissime, se vogliamo, anche aspettative, no? Perché poi, quando incomincia in questa maniera, è chiaro che tutti si aspettano di proseguire, ecco, in ugual modo. Però il campionato incomincia domenica prossima, nel senso che, chiaramente, questa domenica, sulle ali dell'entusiasmo, per tutte queste novità, secondo me, abbiamo profuso, ecco, un gioco, un'energia, un qualcosa che normalmente è difficile, ecco, che possa accadere. Un sacco di bei gol nella prima vera giornata del campionato, seconda giornata, ma di fatto la prima, e allora scegliamo il migliore, anzi, sceglietelo voi, vediamo tre opzioni, vediamo.